Un doppio torneo nazionale e un gran galà con tutte le stelle della ginnastica italiana. La ginnastica Petrarca prepara alla settima edizione del Memorial Manola Rosi un evento di rilevanza nazionale che sabato 3 dicembre torna al Palasport Mario D'Agata con un programma di esibizioni particolarmente ricco. La manifestazione patrocinata dal comune di Arezzo si dividerà infatti in tre momenti aprendosi alle 9 con il torneo nazionale allieve di ginnastica e proseguendo alle 15.30 con il torneo nazionale e trovando il proprio apice alle 21 con il galà. Quest'anno abbiamo questa novità che è il torneo nazionale allieve che si svolgerà ad Arezzo al Palasport delle Caselle a partire dalle ore 9 dove si vedranno impegnate le migliori allieve di tutta Italia in questa gara per attrezzo. Quindi vedremo delle piccole ginnaste che si contenderanno appunto il titolo nei sei attrezzi quindi corpo libero, fune, cerchio, palla, clavetta e nastro dalle 9 del mattino fino alle ore 14 circa. Mentre il torneo nazionale di ginnaste carittimiche a memoria al Manola Rosi avrà inizio alle 15.30 e vedrà appunto 18 rappresentative nazionali dei vari comitati regionali con il susseguirsi di tre ginnaste, un allievo, una junior e una senior e la sera alle 21 il Gran Galà dove saranno appunto ospiti la squadra nazionale di ginnastica ritmica recente dalle ultime olimpiadi di Rio, la squadra juniores di ginnastica ritmica e le ginnaste del team Italia che hanno partecipato appunto a mondiali e olimpiadi. Noi ricordiamo in questo appuntamento la figura di Manola che appunto è stata una grande tecnica a livello nazionale e internazionale oltre che ovviamente è stata anche mia tecnica quindi la ricordo in particolar modo e quindi diciamo che è stata con lei che mi ha dato le basi per poter intraprendere questo viaggio e questo lavoro che attualmente sto portando avanti con la sezione ritmica e che appunto come abbiamo appena ricordato ha ottenuto la salvezza nel campionato nazionale di Serie A1 quest'anno quindi diciamo che per il prossimo anno abbiamo ancora un altro anno di A1 quindi tra i migliori dieci club italiani. È un ricordo che però punta al futuro perché è la dimostrazione di quanto è stato lasciato e di quanto è stato raccolto. In più si aggiunge un evento nazionale che fa di Arezzo la capitale della ginnastica artistica per quanto riguarda la parte degli allievi quindi è un evento di grandissimo pregio.